verso la bandierina, Montero addirittura in zona tiro, ci pensa, si coordina, non calcia, verticale, interessante per Amoruso Nedved dentro per Montero, che grande gol della Juve, segna Paolo Montero, 1-1 a mezz'ora dalla fine, genio Nedved Genio Nedved, ma anche Montero non è stato male perché ci ha pensato, ha caricato il destro, ha caricato il sinistro voleva sparare ma poi ha visto la presenza, la possibilità di una trama meravigliosa come è stata fantastico gol, merita l'1-1 anche perché l'ha iniziata lui con quella finta di tiro, poi Amoruso e Nedved gli hanno riconsegnato il pallone per battere Bodo Higner, segna un difensore, comunque il piede ce l'ha sempre avuto buono, lo dicevamo sia per questo passaggio ma anche per il gol, tocco facile facile a palla di Nedved mamma mia, aveva già fatto una grande cosa su Massimo Mauro prima, ma questa ancora meglio perché mette davanti al portiere Montero, bellissimo, bellissimo